ma salve a tutti i colors benvenuti in questo nuovo video vi avevo chiesto qualche tempo fa di farmi sia delle domande che sia dei nomi maschili bene oggi sarà la volta di utilizzare i nomi maschili se non mi sbaglio vi avevo già detto che li avrei utilizzati per la sfida lo bombi o lo passi speravo che mi suggeriste sia qualcuno che mi potesse piacere sia che non mi potesse piacere per poterlo passare e così fortunatamente è stato siccome qualcuno non ha partecipato dandomi abbastanza fastidio per parità di trattamento per non sottolineare ho deciso che non nominerò nessuno quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato quindi io guardo le foto che ho scaricato per questo video quindi l'ordine sarà assolutamente casuale Harry Styles se non sbaglio dovrebbe essere il cantante delle One Direction beh allora per quanto non sia un brutto ragazzo assolutamente no mi dà quell'idea di imberbe di giovincello che non so quanti anni abbia ma lo fanno sembrare un 16enne alexia quanti anni ha Harry Styles è nato il primo febbraio 1994 ed attualmente ha 28 anni 28 ma sembrano 10 di meno comunque passo andiamo avanti con Dwayne Johnson The Rock bellissimo sorriso ottime sensazioni a pelle ma se lo dovessi se lo dovessi immaginare sotto le lenzuola purtroppo non ci siamo quindi passo anche lui andiamo avanti con Harry Cavill che deduco siamo un attore da quello che ho cercato per trovare una sua foto allora qui qui qualcuno mi dirà che io non ho gusti ma io ho dei gusti invece qui c'è un viso bellissimo bellissimi occhi e una sensualità innata senza bisogno di togliersi nulla e la vera sensualità secondo me modesto parere e quindi Harry Cavill bombo prossimo candidato Jason Momoa amore della mamma ti bombo basta che non ti tagli mai più la barba per alcuna campagna campagna pubblicitaria se trovo il video lo riesco a scurire ve lo metto Jim Carrey che nella foto presa l'intervista aveva scritto 60 anni e sono sexy allora per quanto io abbia avuto una storia super passionale con una persona del 1963 che dimostra quanto io non mi faccia il problema dell'età devo dire che qui in sex appeal per me non è rimasto quindi scusatemi perdonatemi ma passo Jim Carrey Joshua Jackson che io non conoscevo quindi grazie per avermi suggerito per quanto io preferisco il moro anche qui i miei gusti si variegano si può dire perché questo è un gran pezzo di biondo con un bellissimo viso con un bel sorriso sebbene sono accennato quindi bombo Kino Reeves fascino senza tempo persona sensibile attiva nell'aiutare chi ha bisogno e questo a volte può contare più dell'aspetto fisico che comunque c'è anche quello quindi lo bombo uno strano Luca Argentero ma voglio cambiare foto perché questa è troppo piccola e non rende allora sebbene abbia una voce un pochino troppo melliflua secondo me ma d'altronde se si bomba non si parla quindi vince la bellezza e dico sì a Luca Argentero Naya Lauren altra nuova conoscenza diciamo così per me anche qui normalmente mi piacciono i moretti però un bel visino una bella barba spero per lui che non sarà mai completamente perché perderebbe di fascino secondo me e quindi Naya Lauren yes bombo andiamo avanti con una mia personalissima aggiunta visto che non sono tantissimi quindi siamo quasi per finire il rapper rusto basta al secolo vasili bakulenko splendido 41enne con un super neo e io adoro le persone con il neo non chiedetemi perché bombo andiamo avanti con le vostre richieste con i vostri suggerimenti ryan gosling mi state facendo piacere i biondi oggi i miei gusti rischiano di variare per l'ennesima volta se non si fosse capito ryan gosling bombo qui non so se lo pronuncerò bene timoti ciao a me io ho ascoltato un video in cui si auto pronunciava il suo cognome e ho cercato di ripetere quello che sentiva allora non è un brutto ragazzo ha degli occhi molto belli ma non c'è quella scintilla quel qualcosa in più che mi fa dire sì ci farei un pensierino eppure due salti quindi timoti cialami passo questo davvero non so come si dica young blood cavolo si chiama delle foto che ho visto non mi è stato possibile individuare il volto che in situazione intima ipotetica o vera che sia per me rimane sempre molto importante quindi questo è un nì perché non lo so magari è una foto orribile in realtà è un bellissimo ragazzo magari non mi piacerebbe lo stesso quindi concludiamo con un nì io però adesso vi lascio un attimo mi vado a mangiare la liquidizia perché sennò veramente oggi non riesco più a parlare bene ragazzi scusate interruzione adesso va sicuramente molto meglio vi ricordo se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere alcun video cliccate sulle pubblicità fate se volete un abbonamento da 4 euro e 99 per mese ci saranno dei video riservati per voi oppure un grazie al canale del valore di 10 euro io vi ringrazio sempre e comunque di esserci e noi ci vediamo la prossima volta ciao